Professor Riccardi, buongiorno. Siamo all'interno del convegno sul terremoto dell'Anima. In questi giorni, a livello di problematiche, diciamo di centralità nell'attenzione mediatica e non solo mediatica, c'è il problema della pace in Medio Oriente e soprattutto nella pace nel popolo israeliano e palestinese. Sappiamo che lei si è adoperato molto in questi ultimi anni per essere promotore di pace e anche lavorare in riferimento a quelli che sono poi i corridoi umanitari. Cosa pensa di quello che è un po' il problema della crisi proprio nella striscia di Gaza? Bisogna dirlo con chiarezza, a oggi la pace sembra impossibile. Sembra impossibile tra israeliani e palestinesi dopo quello che è successo, l'attacco di Hamas, la risposta di Israele, la pace sembra impossibile. Ma anche sembra impossibile in Ucraina, dove ancora si combatte. E allora che cosa fare? Dobbiamo rassegnarci che la pace è impossibile? Dobbiamo restare indifferenti o dobbiamo applaudire alla guerra? Io credo di no. Noi non possiamo rinunciare al fatto che la pace sia al centro del nostro orizzonte. La pace sia il fine della politica e direi il cuore della missione di noi cristiani. Se questo è l'obiettivo, la pace, allora noi abbiamo la responsabilità di cercare le vie della pace, che sono il dialogo, la diplomazia, la preghiera, l'invocazione. Non dobbiamo rinunciare al fatto che la pace sia possibile, debba essere possibile. Papa Francesco in questi giorni ha più volte rivolto l'appello non soltanto al mondo israelo-palestinese, ma a tutto il mondo della diplomazia e anche al mondo dei potenti su questo tema della pace. Però in prima persona noi cristiani ci ha invitati alla preghiera. Lei appunto ha già accennato al tema della preghiera e del digiuno, un po' è il tema che abbiamo vissuto ieri con l'invito di Papa Francesco. Come si collega questo tema della preghiera per noi cristiani in un impegno operoso di pace? No, io la ringrazio per la domanda perché non dobbiamo rinunciare mai a pregare per la pace, perché la preghiera è la nostra protesta contro la guerra. Naturalmente nella preghiera nasce l'azione, nasce il desiderio di fare e tutti noi possiamo fare molto per sottrarre gente alla guerra. È l'esperienza dei corridoi che la comunità di Sant'Egidio ha iniziato, ha portato avanti ormai 6.000 persone in Italia, corridoi umanitari per profughi, in collaborazione con i valdesi, anche con la Caritas, eccetera. ma poi in questo mondo in cui tutti possono fare la guerra io credo che molti possono collaborare per la pace e la Chiesa ha in sé una forza di pace. Noi l'abbiamo scoperto nella nostra esperienza a Sant'Egidio, non lo dico per vantarsi, ma per testimoniare che c'è una forza di pace. Grazie a tutti.